E' possibile effettuare l'autolettura del contatore per ricevere sempre fatturati i consumi reali ed è un'occasione per tenere controllato il proprio impianto privato da eventuali perdite occulte. Vi ricordiamo di leggere solamente i numeri neri presenti nell'alto del vostro contatore. Le lancette rosse rappresentano i decimali e non vanno considerate. La lettura del contatore è possibile comunicarla attraverso lo sportello online previa registrazione oppure telefonando al numero 0533 725 111 avendo portata di mano una bolletta dove è indicato il codice utente e il codice contratto. Le modalità e gli ulteriori canali per comunicare l'autolettura del contatore sono indicati alla pagina 2 della bolletta sia in formato cartaceo che in formato elettronico in alto in questa zona.